L'iniziativa Wi-Fi 4 EU favorirà l'installazione di dispositivi per il Wi-Fi all'avanguardia nei centri della vita comunitaria. Tra i comuni del Cilento candidati al bando vi erano anche Casalvelino, amministrato dal sindaco Silvia Piesapia, e Cuccaro Vettere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, che ora hanno stretto una convenzione con la società Summeter Network con la sua decennale esperienza. A tal proposito abbiamo avuto ai nostri microfoni Giuseppe Esposito, socio e ingegnere Summeter. Salve, sono Esposito Giuseppe della Summeter Network, società di telecomunicazioni da 10 anni. La Summeter Network è specializzata in connessione di banda larga, interconnessione di dati, aziende comuni e privati. Utilizza varie tecnologie, tra quella wireless, fibra ottica e Ethernet. Queste tecnologie sono negli anni state implementate, migliorate e ottimizzate. Oggigiorno vengono sfruttate le connessioni dati per molteplici utilizzi, tra cui uno di quelli di maggior spicco in questo periodo, è Wi-Fi 4U, un bando europeo che va ben oltre il classico hotspot. Le differenze sostanziali tra il bando Wi-Fi 4U e un normale hotspot sono 1. La velocità. Ogni accesso Wi-Fi 4U garantisce una velocità pari a banda ultra larga, quindi parliamo di circa 300 megabit in download e 300 megabit in upload e si differenziano anche nella durata del tempo dell'accesso. Wi-Fi 4U permette al cittadino di poter utilizzare il servizio 24 ore su 24 semplicemente dimostrando, quindi tramite il codice fiscale oppure una carta che consegna il comune, dimostrando di essere il cittadino del comune che ha partecipato al bando. Il cittadino navigherà 24 ore su 24 nel raggio di 300 metri dall'access point che verrà montato. Al momento sono state già realizzate per difumo come comuni e in via di finalizzazione il comune di Orria. Verranno realizzati a breve Casalvelino con ben 15 accessi per tutta la popolazione, Cuccaro Vetere con 15 accessi e infine Salento con 10 accessi alla banda ultra larga di cui ricordo i cittadini potranno usufruire gratuitamente della connessione 24 ore su 24.